Iniziate a fare il vostro rotoiera. E passiamo, attendo due signori che devono arrivare e chiedere di me. Se giù non lo metto solo di sopra, farle aspettare, devo consegnare loro una cosa. Ma se volete potete lasciare a me, consegno io. No! Che succede? Consenso che devo consegnarla io, personalmente, con le mie mani. Eh, come volete? Non preoccupare. Ma io voglio giù, giù, giù. Delico, almeno ho finito di chiedere le valizie? Mi fate chiamare perché ci non è nulla. Ma che? Sei il filosofo, ci puoi chiedere? Cortineria? Sì, contessa. Sì, un attimo salgo in camera. Come? Gettiamo via rapidamente l'estremità dei piatti superiori. Ma che c'è? Puttami in mano. Sì, salgo, salgo. Chi è? È capitato. Dite. Ma avete i conti? No, no. Ho il netto. Eh, ma capisce. Guarda qua, guarda. Vali in cucina? Sì, poteri? Eh, guarda qua. Non mi passa neanche la capa. Buongiorno. Ti ho salutato? Cos'è il faiato? Invece che vuotano sono i fratelli umani uomini? Scusate, cerco mio fratello. Eh, chi sono cercano non lo spesso e non so se può se lo trova. Vuoi anche il profeta con un fratello? No, ma io dico, sono benzinante un po' cristiano. E cerco mio fratello maggiore di io. Quello famoso, il mio grande fratello. Famoso, stai perdendo le grandi fratello. Oh, mamma mia, che c'è il mio fratello? E dai, guarda qua. Vì, va mia roba. Vengiamo le grandi fratello. E lo sai che lo chiamo di conoscenza? Eh, ma chi? E guarda qua, tu guarda qua. E dai, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Ionita, guardate che c'è tranquillo. Io non so comunque per il grande fratello. Io c'è il tuo mio grande fratello. Nel tempo mio fratello maggiore. Cioè, voi non siete dei grandi fratelli? No. E che cattigia fa? Ti preparerò dopo la volta? Ti non ti nisciuto. Ma ci sono faccia che i sai. Siete volte che avevo sanzato tutto questo. Io ho chiesto semplicemente che ci sarà il mio fratello, figlio, buon cristiano, l'eroe. L'eroe, sì. L'eroe con tre e due volte. E tre e due volte. Sì. L'eroe con te tre e due volte. Ha salvato il capitano per ben due volte. E adesso, per paura. Non mi fate prendere tempo perché dobbiamo anche utilizzare la tua letta. Potete vedere se ci sta mio fratello? Ehi, che lo sa? Secondo te? E come mi chiami? E indovina. E quanti anni hai? Ma che anni dai? Ma che anni voi saprerebbe? Ma che anni fa? Ma che anni fa? Ah, questo è lì, lei. Matteo, non mi hai detto che è proprio un affascinante? No, no. Eh, non mi hai detto che hai quei bellissimi occhi grandi come i tuoi fanali? Sì. Eh, allora fa un buon favore. A voi le coppa a chi lo vuoi là sotto e le 10 c'estranno il fratello. No, signoria. Applausi. Applausi. Applausi.